Ehi! Ehi! Oddio! Ehi! Che stai facendo? Sali in macchina, Marvin! Dai, Tom, piantala di scherzare! Dammi retta! Sali in macchina, se non vuoi morire! Ok, va bene! Aspetta che io... È ancora chiusa? Perché tiri la maniglia, proprio mentre io sto ancora... Come se ne metti lo proprio mentre... D'accordo, al tre! Va bene! Uno, due... Perché tiri al tre? Perché hai detto tre! Uno, due, tre, apri lo sportello! Ma che stai facendo? Sto tentando di entrare in macchina! Uno, due... La finiamo col colo, senti, devi tirare al tre! È quello che ho fatto fino adesso! Non toccare quando spingo questo bottone! Ok, allora vado sul quattro? Quando dico tre, non devi preoccuparti del quattro! Hai tutto il tempo di questo mondo! D'accordo, prendo la prossima! Così ti va bene? Che carattere di merda! Buona giornata! Guarda, meglio morto! Guarda! 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 Grazie a tutti.